Dicono che questo mondo è reale e senza fondamento che non c'è un Dio che lo dirige ma è rispettato del desiderio sessuale e non altra causa che la lussuria Lo scopo della vita umana è quello di capire Dio e di arrendersi a Lui Questo mondo è il mondo di perdere Dio Questo è il mondo della dimenticanza di Dio Specialmente oggi giorno ci sono molte teorie demoniache che offuscano o coprono il sentiero della realizzazione di Dio In questo verso il Signore Krishna sommarizza tutte le filosofie del mondo Anche ciò che si suppone siano quelle teiste Perché anche il cosiddetto teismo è una delle filosofie teiste Perché non hanno una esatta comprensione di Dio devono introdurre tante altre filosofie e anche quindi quelle arte Do you say that ipso facto in italiano? It's latin It means, yeah By that very fact, necessarily Not in common, Italian Or in common It's latin, yeah I thought it might come in Italian So, we might think that there are many different philosophers and philosophies, sorry Noi possiamo pensare che ci siano differenti filosofie e filosofi Within the study of philosophy and the universities there's a branch called the history of ideas Nel dipartimento dell'università in filosofia abbiamo questa filosofia And they particularly Storia delle idee The history of various mental speculations La storia delle varie speculazioni mentali And they especially trace the When they talk about philosophy they mean western philosophy They think that philosophy is the product of the western world Although, actually, in the 1980s one Harvard professor he was originally from Russia but he he wrote a book in which he said that actually the only real philosophies in India and in the west they have no real idea Anyway, they think that there was the Greek philosophers and then out of that developed various theories the Renaissance the Enlightenment humanism and empiricism logic rationalism and all these things have come out of the various great philosophers Comunque si pensano che ci sia stata la filosofia greca l'humanismo il rinascimento I should have said that a little slower Tante filosofia Humanism l'humanismo empiricism logic rationalism la filosofia empirica and the great philosophers like Socrates Plato there were so many in the early times and then then in Italy there were so many philosophers Germany England so and then right after the modern age with great philosophers like John Lennon I am you and you are me and we are all together and I am you I am you and you are me and we are all together But in this verse of Bhagavad Gita all these ideas that they have they think are their ideas are already predicted by Krishna because there is nothing really new in the world just as the sun rises and sets every day and there is spring summer autumn winter or in India there are six seasons depends where you are so in the cosmic manifestation there are the days of Brahma in which there are a thousand cycles of Satya Treta Dvarpa and Kali Yogas and all these various theories come out maybe in somewhat different form but the same basic rotten wrong ideas come out again and again and they seem like very good ideas to people who are very determined not to be Krishna conscious Sembrano che siano delle ottime filosofie per la gente che è molto determinata a non essere cosciente di Krishna matina krasne paratasfato vāmitophi bhadyeta griha vratanam adanta gobhi visatanta misrong punaf punas charvita charvananam persons who are addicted to enjoying their senses and trying to be comfortable in this material world will never be attracted to Krishna persone che sono assuefatte a godere della vita in questo mondo materiale non diventano mai non sono mai determinati a diventare coscienti di Krishna they may sit and think you've seen the philosopher's position why am I here what is the purpose of life and his wife calls out come and clear the snow out of the path or they may have big conferences coming together interfaith conference they go in and they come out without knowing anything more about Krishna lo stesso modo dove entrano ne riescono senza nessuna informazione coscientica because their goal is to chew the chewed they are not serious about self realization and therefore Krishna within their heart gives them inspiration to invent various or to come up with various theories by which they can very intellectually forget him and people of demoniac outlook are attracted to that so the key words here in this verse they say that there are certain classes of philosophers say that there is no ultimate truth or reality la parola chiave in questo verso è che loro dicono a differenti classi di filosofi che non c'è una verità assoluta non c'è una base ultima a niente non c'è Dio non c'è un controllore nell'universo queste parole significano ogni cosa è nata dal caso non è una teoria nuova senza nessuna interazione combinata e sambhuta significa che viene ad essere e qual è il significato della vita semplicemente lussurio il desiderio lussurioso so this philosophy is this is the underlying basis various so called vedic philosophies it's not that everything that goes under the name of vedic is proper there are many misinterpretations of the vedas there is there is atheistic sankhya philosophy in which they analyze and come to the conclusion that there is no ultimate truth matter is eternal and that's all there is matter that's a great simplification of the theory but modern science says the same thing they have very scientifically analyzed that there was nothing in which in case there was no time either but then all of a sudden everything began with a big bang nothing exploded and then all the bits fell into place and tutto è esploso in parti tutto si è fatto a pezzi and one fell down as a cell phone which you can kindly turn off one of the bits that fell down and then another fell down on a seat in a university as a professor and said everything has come from nothing uno di questi pezzi che si è sfaldato da questa esplosione è andato all'università e ha dichiarato tutto viene dal nulla this is called science perciò è chiamata scienza buddhismo poi c'è il buddhismo there's no ultimate truth non c'è una verità ultima everything is nothing tutto e niente it doesn't really make any sense does it ciò non non ha nessun sense they say that well and everything you see there's no ultimate cause and then from dust thou art unto dust thou shalt return body body is matter and consciousness comes into being when with the body and when the body dies then it's all finished la coscienza appare a un certo punto quando c'è il corpo e quando il corpo muore non c'è più niente and then buddhism is more extreme they say well the sankhya say that matter only exists but the buddhism is ancora più estremo della filosofia sankhya perché dice non solo che la materia esiste ma alla fine dice che niente esiste niente esiste and even that we perceive it to exist that's also non existent niente esiste e anche quello che noi percepiamo come esistere non esiste in effetti buddha non è che ha insegnato tanta filosofia è difficile insegnare una filosofia dove tutto è niente so within a short time of buddha passing away there were 180 schools with different theories of how everything is nothing poco dopo che buddha è andato via sono sorti 108 filosofie tutte che affermavano che tutto è niente ognuno argomentava con l'altro diceva no tutto è niente in questo modo e l'altro diceva no tutto è niente in quest' altro modo 1 plus 2 equals 0 no 1 plus 4 equals 0 1 più 3 è uguale a 0 no 1 più 4 è uguale a 0 so their theories of meaninglessness are meaningless così essi lavorano una teoria di c'è un significato e non c'è un significato anche se si dice niente è un significato ci deve essere un significato in quello che si dice meaningless is a concept which if you look it up in the dictionary you'll find it has a definition the term meaninglessness has a specific meaning which is separate to spectacles or cow right spectacles glasses glasses I just happen to look here and see spectacles chashma I don't know it's your language now these people who say everything is meaningless they don't practice their philosophy when they're hungry they eat they don't say I'm hungry but it's meaningless so I won't eat they suspend their philosophy for lunch time they may say well it's meaningless but I'm just doing it to be in line with everyone else conventionally so well there's others who say everything is all one so instead of giving them a big plate of spaghetti we should give them a big plate of stew and let them eat that everything is all one it's all the same philosophy should be meaningful and if they say it's meaningless then they should live by that but they cannot and if something does have meaning they should lose it instead no even if you say if someone says everything is meaningless then you can say well your statement is also meaningless that means that it's meaning that everything is not meaningless it's a self defeating sentence so I collected a list of a few of these self defeating absolute negative sentences that's an easy sentence for you to translate I don't believe in anything I don't believe in anything do you believe what you just said nothing is true niente è vero is what you just said true ma quello che sta dicendo è vero it's an impossible statement because è una dichiarazione impossibile if you say nothing is true then if the statement is true then the statement is true it's not true se dici niente è vero se questo è vero allora niente allora anche quello che dici è vero and if it's not true it's also not true e se non è vero è anche non vero allora se tu dici niente è vero se tu quello che dici è vero hai sbagliato a dirlo perché hai detto niente è vero ma quello che dici è vero se invece tu dici niente è vero quello che hai detto è sbagliato allora non vuol dire che niente è vero vuol dire che tutto è vero sei sconfiggio da solo so these philosophies of meaninglessness they're meaningless queste filosofie niente ha significato sono senza significato and this this philosophies of meaningless they spill over or impersonalism they spill over into what is called the new age philosophy tutte queste filosofie impersonaliste vengono fuori in questa queste correnti di new age when they say it is wrong to be judgmental do not be judgmental quando esi dicono è sbagliato essere giudicato chi giudica una persona non giudicare mai nessuno you shouldn't judge anyone you see this is good he's not good he's bad non giudicare mai niente nessuno but if you say that you're being judgmental or if you say you shouldn't criticise anyone then indirectly you're criticizing people who criticize others oppure se tu dici non criticare nessuno ma stai criticando le persone che criticano qualcuno I don't accept anything as absolute non accetto niente come assoluto is that statement absolute ma questa questa dichiarazione è assoluta nothing is true niente è vero so like this 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 philosophy of negativism is self-defeating questa filosofia della negatività si sconfigge da sola but it appeals to certain people actually in the mode of ignorance ma è attraente per alcune persone che sono sotto l'influenza dell'ignoranza this buddhismo is actually in the mode of ignorance it's a philosophy of hopelessness they say that the world they see that the world is miserable but they have no positive conclusion they don't know of any spiritual world with Krishna so they say that just well just spirit suicide existential suicide become nothing and they try to say that nothing exists I have a quote here from one of our earliest godbrothers who joined in 1966 66 in the hippie days in New York this is from Umapati Swami so he said I'd been reading Buddhist books and in those books it said you cannot say it is you cannot say it is not you cannot say it both is and is not you cannot say it neither is nor is not you cannot say it neither is nor is not it's just meant to make you if you understand it you're in trouble it's not meant to be understood it's just it's called a koan in Zen Buddhism they say something which is impossible and then you're supposed to think about it and then you become realized the sound of one hand clapping there's no sound the sound of a hand that beats with nothing it's not sound when Prabhupada said the supreme absolute truth is a person I thought that was the most intelligent thing I'd heard in my whole life it made so much sense that I knew I had found the person I was looking for so much sense this I thought this is the person who has tried for all life Srila Prabhupada ha scritto del suo proprio maestro spirituale la verità assoluta è sensiente tu l'hai provato e la calamità impersonalista tu l'hai rimossa è una dichiarazione molto pesante per l'anima condizionale è la sola cosa che fa che ha un senso se noi diciamo non c'è un Dio che controlla è un non senso se diciamo che tutto viene dal niente non ha senso se qualcuno ha un chiaro conoscenza deve comprare che c'è Dio in controllo e Dio è una persona se qualcuno ha un chiaro senso comune deve capire che Dio è in controllo di tutto ma perché la nostra coscienza è coperta da fortissimi desideri per il piacere dei sensi allora non accettiamo questo perché se riconosciamo questo allora dobbiamo arrenderci dobbiamo abbandonare tutta questa mascherata ishvaro hamma hambhoghi siddho hambalavansukhi this is how the demon thinks I'm the controller I'm the enjoyer I'm perfect I'm powerful so I'm happy il modo in cui i demoni pensano è che io sono in controllo io sono il controllore io sono colui che gode io sono felice quindi molto spesso sentiamo di dire da Devoti come Prabhada era così così gentile e così così buono questo è vero però dobbiamo riconoscere che il provare è estremamente intenso perché lui richiedeva abbandonarsi a Krishna i cosiddetti spiritualisti sono spesso attratti da persone che offrono un'imitazione come un manichino so if someone comes and talks about peace and love and compassion and we're all one people think oh oh nice quindi se qualcuno dice parla di pace parla di compassione e siamo tutti uno allora la gente pensa oh è così bello yesterday yesterday I shocked the devotees in the next house by telling them that the Dalai Lama is a meat eater ieri mattina nella casa a fianco ho scioccato quella famiglia dicendo che il Dalai Lama è un grande mangiatore di carne he talks of peace and increases the karmic build up of the world every day lui parla di pace però non fa che altro che incrementare l'accumulo delle reazioni karmiche di ogni giorno and actually Buddhism must lead to this I was in Thailand for some time which is a hard core Buddhist country sono stato in Thailandia che è un un paese molto it's a heavy Buddhist country so everyone is apart from a few Muslims everyone is a Buddhist and everyone is a meat eater and there are a few Buddhist vegetarians but they're not popular people don't like them e certo qualche Muslim soprattutto i Buddhist c'è qualcuno che non mangia carne però la maggior parte so they know as Buddhists they should not kill animals but the Muslims are the butchers they only buy the meat loro sanno che è vietato uccidere loro dicono loro sanno dei musulmani come macellai e loro dicono noi non ci diamo so I asked a woman once I said look you're a Buddhist and you eat pigs right you eat pig's meat said yeah it's the most popular meat there ho chiesto a una donna dice ma tu sei buddista e poi stai mangiando la carne del maiale so don't you know in your next life you'll have to become a pig non lo sai che la prossima vita dovrai tornare come maiale she said yeah then I'll be happy as a pig and lei ha detto allora sarò felice come maiale the problem you see that the goal of life for both impersonalism and voidism near the same the goal of life is not very desirable il problema è che lo scopo della vita in entrambi i casi che sia uno i personalisti e quelli che aspirano dietro al vuoto non è molto desiderevole you want to sit on a chair? no problem yes you're having stiff legs you can sit on a chair si si stai dopo and the method to achieve realization is also very difficult and takes a lot of austerities very dry and takes many lives to perfect e anche il metodo per arrivare a questa autorealizzazione è molto faticoso è arido e impiega molte vite per raggiungerlo so although they officially say that this world is miserable sebbene dicono che questo ufficialmente dicono che questo mondo è miseribile if they think to get out of this misery I have to spend many lifetimes performing austerities and in the end I just become nothing they think well better eat pork might as well this misery is better than that misery se pensano in grado so he defined so he defined himself as Sarasvati a servant he first identified himself as a servant of Bhaktisiddhanta Sarasvati who who by preaching the message of Chaitanya Mahaprabhu in the western countries is delivering them from Nirvishayisha Shunyavati the impersonalism and voidism che predicando il culto di Shri Chaitanya Mahaprabhu nei paesi dell'west lui li ha liberati dall'impersonalismo e dal vuoto la teoria del vuoto lo scopo della nostra vita è l'amore per Krishna dobbiamo chiarificare pulire tutti i demoni che sono nella nostra mente uno dei più grandi demoni nella nostra mente è qualcuno che si presenta come santo Putana era molto pericolosa con la piena cooperazione di Yashoda lei ha avuto la possibilità di provare a uccidere Krishna i mayavadi e quelli che aspirano al vuoto possono anche superficialmente apprezzare Krishna in molti casi sono dei buoni sadhu non tutti loro mangiano carne per esempio possono avere delle buone qualità ma la loro filosofia è orribile dovremmo capire questo molto attentamente perché un aspetto di ciò se non lo facciamo è che non possiamo fare avanzamento nella coscienza è un altro aspetto è che dobbiamo capire questi punti se dobbiamo predicare la coscienza di tutti gli altri perché il mondo è pieno di queste idee a te so those are a few points i wanted to make questi erano alcuni punti che volevo fare what are the obstacles to our practice and preaching of Krishna consciousness quali sono gli ostacoli alla nostra pratica e predica della coscienza di Cristo it's basically the demoniac mentality within our own mind and in the minds of others basicamente sono gli elementi demoniaci nella nostra e nella mente degli altri non è così facile essere cosciente di Cristo Shri Chaitanya Mahaprabhu l'ha reso facile introducendo il canto dei santi nomi di Krishna ma nello stesso modo dobbiamo avere dobbiamo comprendere chi è Krishna e avere un puro desiderio di andare da Krishna questo desiderio non si può avere fin quando avremo questi pensieri che è più o meno obiettivo in la tua lingua che troviamo dappertutto oggi dovunque andiamo it's everywhere so, any question, comment or protest, please just a very simple question about the Buddhists but they practice yoga transcendental yoga oh no, 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 no you're getting mixed up maybe in Italy they do it's a different school but they're similar in their outlook but they're different schools see, yoga, that's one school within the Vedic fold and Buddhism is rivally against the Vedas I mean, Buddha decried the Vedas but then his philosophy it actually adopted many much understanding from the Vedas even though he didn't officially accept it but the philosophy and the terminology he uses, it's practically a lot of it is Vedic except that he denies that there's well, he doesn't mention any soul or God ma se pure egli rifiutava l'anima e Dio molte sue dichiarazioni sono presenti nei Veda but in many schools of Buddhism meditation is prominent in molte scuole buddhiste la meditazione è più prominente and that's also central in yoga so that's why that understanding might have come but actually they are distinct schools ci sono scuole distinte alcuni anche sono centrati sullo yoga però ci sono differenti scuole che differenza c'è tra il tantra buddhista e il tantra... oh Buddhism, there are so many things tantra... oh the Tibetan Buddhism is tantric Buddhism it's very low class mixed up with demons and devils and spirits and they're all meat eaters il buddhismo tibetano è pieno di tantra che è riempito di mangiatori di carne demoni eccetera tantra actually the term tantra it can refer to any practice even Vaishnava practices la parola tantra può riferirsi a molte molte pratiche anche Vaishnava può riferirsi anche a essere Vaishnava officially or literally speaking deity worship is also tantra ufficialmente praticamente parlando anche l'adorazione della divinità è tantra ma ufficialmente ciò che si intende per tantra è là la sinistra di vita and yeah and ultimately they have an impersonal conception also it all comes down to the same in ultima analisi hanno una congezione impersonale but they they invoke the lower forces within the universe invocano le forze basse le forze inferiori dentro l'universo demons and evil spirits demoni spiriti cattivi and they'll perform worship in the burning grounds with the dead bodies and svolgono adorazione con cadaveri nei meandri della terra nei sottosuoli della terra and buddhism some schools of buddhism especially in tibet picked up this tantrism or became merged with that differenti scuole nel buddhismo tibetano si è immerso in queste pratiche but it's you see in bhagavad-gita lord krishna gives an analysis we can analyze everything in the universe according to the three modes of nature so this kind of tantrism where they they eat from skulls and they for instance they may eat from skulls and and there are various there's the panchama that means what's it called miso mid mid oh is it yeah so what's that that's mangsa madhira matsya mahila and what's the other one i can't remember five mrs anyway it's meat fish women wine and malmutra stool and urine so these are the things they deal in the five things they have to do are the meat the fish the wine the women and the scrimmage yeah so they to to show or to practice that they're not attached to this world they have no disgust for anything they may take a dead body and have sex with it per sviluppare distacco da questo mondo per non attaccarsi a niente di questo mondo possono anche fare sesso come uno scheletro and ingest stool and urine e ingerire escrementi e urine it's very dangerous because while they're having sex with a dead body the spirits will attack them and they can be completely taken but if they if they don't if they're not over if they're completely like neutral then they can take the devils into their they can take power from them anyway it's horrible don't have anything to do with it it's like black magic or satanism something like that it's not that it's not that everything that comes out of India is sacred but we'll find all over the world there's this there's this lower level of spirit worship everywhere ma troviamo questo basso livello di adorazione degli spiriti dappertutto nel mondo even in even in anche in positive legrinaggio dell'India non in Jaganapuri ho visto a volte c'è c'è ma yeah everywhere you'll find tantrics Kali Kali worshippers everywhere you'll find but we don't have anything to do with that but you'll find Buddha Preta Ganang Sraiva mentioned in Bhagavad Gita that the people in the Tamagun they worship the spirits yeah Buddha Preta different kind of oh there are so many different kinds of ghosts if you want you can read Garuda Purana according to the way they die but we don't talk too much about ghosts especially not our subject just tangentially we have mentioned it in italian Preta we call them Preta it may be that it's not our subject is Janmādhyas yatambhya ditaratash cates vajnāsvar artene brahmā ridhāya adhikavye muhyanti yatsūryah tejo vārim radhāṅ yatthā vinamayo yatratrisārgo mishā dhāna sveina sadhāni rastra kuhakam satyam parang dhimahi this is our subject it's the primo versa and it's the whole subject of śrīman bhagavatam but to come even to the first verse of śrīman bhagavatam we have to go through bhagavad-gita Arjuna was bewildered and after hearing bhagavad-gita he became clear in his purpose so when we come to that point of being clear in our purpose then we are candidates for entering into śrīman bhagavatam so yeah what else well if you if you said in italian then those who don't understand they can understand it's not a challenging question but sincerely I want to know the answer to go back to the topic about impersonalism in my life now now they are becoming so many because the people are so much attracted to them to to Se possono prendersi qualche rischio, o è meglio bastonare e stare lontani. Adesso per esempio c'era questo Tatata che era un grande yogi, c'erano mille persone a Roma al teatro. Non ci hanno chiesto di collaborare, noi abbiamo fatto il ladu e lo hanno distribuito. They ask us to cooperate, and we cook some laddu, and we distribute to them. 1,000 pes. Did they pay for it? I said, thank you. No, the devotee personally, Hare Krishna, they show Hare Krishna. They ask the devotee to bring some... The people know that Hare Krishna gave... But did they pay for it? Well, the bagada request of... The space. Only the expenditure. Yeah. I would like to know, really, your opinion, because in Villa Vindana, they invited them for three days, and they let them preach. Oh, really? Well, I can say pretty clearly that... I mean, I don't know exactly what happened. Because they paid the three days' rent. I see, yeah. Well, in general, Prabhupada, you know, he was not very accommodating to my advantage. I mean, there are different anecdotes. When he was sick in hospital in America, in about 1968, one Indian Swami came to meet him, and Prabhupada spoke with him in a friendly way. But there were other incidents, just like in Wardha, where there was a meeting of all Mayavadi Sadhus, and Prabhupada just blasted them. He was really angry. He was actually very, very angry with them. He said, why are you cheating... All big, big swamis, Prabhupada said, why are you cheating people by teaching Bhagavad Gita and not presenting Krishna? In un altro caso, in which c'erano migliaia di queste persone, Prabhupada è diventato molto, molto agguerrido. He ha detto, perché hai predicato la Bhagavad Gita, staggiendo Krishna di me? He was shouting at them. But there was one incident where Prabhupada was featured in some magazine, I think it was Life magazine in America. The incident was called The Year of the Guru. And it had all these bogus gurus, and Prabhupada was there. Prabhupada said, it's not good to be featured, mixed up. People should not think that we're the same as these people. In un altro caso, Prabhupada è stato, la sua immagine configurava con quella di altri guru impersonalisti. Prabhupada ha detto, non è il caso di metterci insieme, dovete differenziare. It can be a bit of a dilemma, because we are more against them than they are against us. Può essere un dilemma, perché siccome noi siamo contro di loro, loro sono contro di noi. Because in their philosophy, everything's okay. And in our philosophy, only Krishna is okay. So they're often very accommodating to us. But that accommodationism is very dangerous for us. So my general policy in all these years in preaching in India is to, you know, that's like the homeland of the Mayabai. They're coming here, but, you know, that's their homeland. So my policy is generally to avoid them, and if we meet them, to be, depending on the situation, to be formally polite, but not much more. Recently in May, we had a three-day, I guess here you'd call it a seminar, or get-together of various devotees, mostly in Gujarat, on the bank of... We hired a Mayavadi ashram on the bank of the Namadar river. Because they had all... It was in the center of Gujarat, and they had a good facility, so we hired their ashram. So, I didn't go to see... We just did our program, and I didn't go to visit the head of the ashram or anything. But they called us, there were a few big Mayavadis, they just had their own conference there. So they called us, and asked us to come and meet them. We had our usual program, and I didn't meet them. We had our program, and some of them, the leaders, called them. So we spoke with them politely a little bit, and gave them some Prabhupada's books. And then I said, okay, do kirtan. And we did kirtan in their presence, in their meeting hall, for about 40 minutes. And one of them was, you know, we were all, Hare Krishna! And one of them was clapping his hands, and the others were like, you know, trying to look like they were not too disturbed by it. But there are various levels of Mayavadis also. I mean, some of them, like, they follow some principles. Ci sono alcuni, diversi livelli di questa filosofia. Alcuni di loro seguono dei principi. And they actually promote some good things among their disciples. They may promote, like, cow protection, and different things like that. But their philosophy is horrible. But then some of them, their philosophy is horrible, and, you know, they're meat-eaters, and they call themselves God, and they're really... I mean, some are worse than others. It's like the whole Hinduism question, isn't it? It's like, you know, we're not Hindus, but we are Hindus, kind of thing. It's like, you know, we're not Hindus, but we are Hindus, kind of thing. Philosophically, we don't want to merge into the whole big Hindu mush. Aum, when we all be... Hare Krishna merges into Aum. We don't want that. Non vogliamo immergerci, diventare tutti, tutti omogenei con Aum. Hare Krishna si immergono nell'Aum. But, I mean, sometimes Prabhupada did present as that we are... This is Hinduism. Mostly in preaching to Hindus. Sometimes you'd say real Hindus, that the real Hindus should study Bhagavad Gita as it is, for instance. Prabhupada, for example, when he visitaba alcuni Hindus, he said, he... He very Hindu, that he prosodiyama Bhagavad Gita. But Prabhupada, he wanted to present Saravopada, Divinir Moktam, that we are... This is... Devotional service is beyond all bodily designations. Prabhupada voleva presentare l'idea che il servizio devozionale è al di là di tutte le designazioni corporee. We're not preaching a sectarian religion. We're not interested in Hindu, Muslim, but what is the truth? What is reality? That is the point. Non siamo interessati a quello che è l'Hinduismo, l'Islam. Noi vogliamo sapere, vogliamo, siamo interessati a qual è la verità. Questo è il punto. If you say we're a Hindu, well, that means we're, you know, we're against the Muslims and we're trying to convert people from one religion to another. Se noi diciamo siamo Hindu e lottiamo contro i musulmani e vogliamo provare a convertire altre persone in la nostra religione... It's sectarian. Questo è il sectarianismo. But Bhagavad Gita is not a sectarianism. Krishna doesn't say, become a Hindu. He doesn't say in Bhagavad Gita, Arjuna, be a good Hindu. He never says any such thing like that. La nostra filosofia non è sectaria. Krishna mai dice, Arjuna, diventa un buon Hindu. So it's convenient for us because they say, people, they always want to put you in some kind of box. So you get in the Hindu box and then we'll pat you on the head. It's difficult for them to understand us so we can kind of, instead of giving them the difficulty of understanding, we can make it easy for them by just saying we're Hindus and then they don't have to think anymore. But we want to make them think. Dicendo che noi siamo Hindu a volte vogliamo solo facilitare la loro comprensione di chi siamo noi come introduzione. That's the whole point to make them think. Ma in effetti è molto meglio farli pensare, perché loro non capiscono, ma è molto meglio farli pensare. Questa è la cosa più importante. Ok, anything else? Può accadere che anche per esempio dei Vaishnava possano iniziare a predicare con criteri impersonalisti e del vuoto? È possibile che anche per esempio di Vaishnava possano iniziare a predicare in questa categoria di impersonalismo? Vaishnavism e impersonalisti? Definitivamente. Impersonalisti often pose as Vaishnavas, at least in India. È possibile. Oh, sì. È possibile. Perchè spesso i Vaishnavas si pongono come... I personalisti si pongono come... There was one very famous reciter of Sriman Bhagavatam, who everyone, most people thought he was a great devotee. But I was saying, not only myself, he's not a devotee, he's a Mayavadi. Un grande recitatore del Bhagavatam, lui si poneva come un grande Vaishnava. Però non è un devotee, lui è un Mayavadi. He's not a proper devotee. Non è veramente un devotee. So, we were in one city, I was there with the Padayatra, and for some reason he was visiting the ashram we were staying in. Not to see us, but for some other reason. He was coming. Ci troviamo in una città a fare il Padayatra, e in qualche modo o l'altro lui è venuto a visitare questo ashram, non per vedere nulla, ma per visitare quell'ashram. So, one leader of the Padayatra said, oh, we should welcome him with Kirtan and have the deities there. Sì, un leader del Padayatra ha detto, no, noi dovremmo dargli il benvenuto, abbiamo fatto di vedere le divinità, dargli accoglienza. And I said, no, why should we do anything special for him? He's bogus. E io gli ho detto, ma perché no? Perché dovremmo fare qualcosa per lui? Lui non è autentico. So, anyway, he was the leader and they organized the Kirtan and they had the deities. Ma comunque, questo devoto, lui era sempre il leader, lui ha organizzato le divinità. And this so-called great devotee came and he just completely ignored the devotees and the Kirtan and the deities and walked past. Questo cosiddetto devoto è venuto, ha ignorato completamente le divinità, ha ignorato il Kirtan, i devoti ed è andato a fare, è andato via. Insomma, a fare quello che doveva fare. Then we went to his ashram after he died, some years after. I gave a lecture there and saying who's a real devotee and indirectly I've said that this person's completely bogus. They take the Bhagavatam and they want to kill Krishna. But we find there, the Sri Vaishnavas in South India, they're very appreciative of us. They're not my... Well, some of them in their personal lives are mixed up, but... Ma proviamo per esempio nel sud dell'India, nella... nella... Sampradaya, Sri Vaishnava, loro apprezzano molto Krishna. In Sri Rangam, in Kanchipuram, which are two of the main places of Sri Vaishnava, Sampradaya, they very much appreciate us. In questi posti la gente apprezzata veramente molto Krishna. Even when I give a lecture there, some of their priests come and listen. A volte anche quando faccio qualche lezione, a volte alcuni dei loro predi vengono e ascoltano. But then you'll see that many of... I mean, apart from those who are like really dedicated, many in the traditional Sri Vaishnava families, they're all so mixed up with all Mayavad. It's horrible to see. Possiamo vedere che in alcuni posti, anche se vengono addestrati in famiglie Sri Vaishnava, loro hanno la mente completamente confusa. They're worshipping Sai Baba. I went in the house of one Sri Vaishnava. He was a rich man and I gave a lecture and I told him that all your forefathers, they'll be totally disgusted with you because you're worshipping Sai Baba. Ho fatto una lezione a casa di uno di questi della Sri Vaishnava. He detto tutti i tuoi antenati saranno veramente disgustati con te solo perché tu stai adorando Sai Baba. So, Kutas Tua Akashmalamidam. How have these impurities come upon these people? Come queste impurità sono subentrate in queste persone? Because there's been no proper teaching of the philosophy therefore they get spoiled. Perché non c'è stato un corretto insegnamento della giusta filosofia allora sono stati sfruttati. So, similarly, in our Vaishnava society if we do not speak on these topics then very quickly we'll all become Sahajiyas and mayavadis and it's already happening. Quindi anche nella nostra comunità lai Shlava se non parliamo chiaramente di queste cose allora subito tutto diventerà perché è molto facile parlare di qualche storia di qualche lila ma abbandonare a rendersi è veramente difficile. so, we're not against stories and lila and all this but we see that Prabhupada and Bhaktisdhan Sarsvartakar they spoke like 98% Bhagavad Gita philosophy and 2% lila and all this non siamo contro le storie o il ila ma vediamo che Shlava Prabhupada e Bhaktisdhan essi presentavano 90% la filosofia della Bhagavad Gita it's too easy to cheat ourselves 98% la filosofia e il 2% parliamo di lila 98% della filosofia della Bhagavad Gita in 2% di storie di lila ok Hare Krishna I'll finish there I've written still more questions I have one question you want to surrender to Krishna chant your rounds follow everything Gesù secondo quello che non può dire e se c'è qualcosa che accomuna la religione cattolica cristiana al movimento della coscienza di Crici thank you thank you I would like to know what you think about Jesus and if there is something which put together Krishna conscience philosophy and Christianity well from what we understand of Jesus what he taught was very good although he himself said there are many things I have to teach you but you are not ready to understand according to many biblical scholars Jesus was most probably a vegetarian and he taught about reincarnation but this has been expunged from the modern church because they didn't find it very convenient ma questo è stato espulso questo concetto è stato espulso dalla chiesa moderna perché trovavano ciò non molto conveniente if Jesus was here today he had joined the Sankirtan party the Hare Krishna movement se Gesù Cristo venisse adesso si unirebbe al movimento del Sankirtan di Shri Chaitanya vado Hare Krishna di Shri Chaitanya di Shri Chaitanya